ciao ragazzi e bentorni in questo video qui a Giapaz oggi siamo noi qui ragazzi in un nuovo video sono appunto qui ragazzi per la mia reaction ai sorteggi d'europa league ovviamente vedete che squadra tifo la la s roma ovviamente quindi andrò a reagire ai sorteggi della roma e ovviamente anche quelli dell'atalanta e vi dirò un po la mia sul pronostico su chi passerà più o meno poi se volete anche il pronostico sui gironi di champions visto che non ci ho fatto un video fatemelo sapere ci faccio un video a parte magari ve lo faccio uscire in questi uno di questi giorni ovviamente fatemelo sapere se lo volete ovviamente lasciate tanti mi piace per supportare il canale vi ricordo ovviamente iscrivervi al canale se siete nuovi mi raccomando cerchiamo di arrivare a questi benedetti 3.000 iscritti quindi iscrivetevi al canale attivate la campana prima di ragionare tutta quanta settimana e ovviamente condividete il video vi ricordo di recuperare i scorsi di torno del corso di schede a fine video e soprattutto vi do vi lancio un appuntamento questa sera mi raccomando ore 20 e 45 live reaction di roma milan non ve la perdete perché è un big match perché ovviamente sono in live e reagirò in diretta ovviamente potremo seguire la partita insieme vi aspetto questa sera e continuo a seguire il video e ditemelo vostro sotto un commento secondo voi come chi passeranno tra roma atalanta in che posizione passeranno ovviamente ditemelo vostro sul girone del sorteggio della roma allora innanzitutto la finale che si giocherà appunto la finale appunto che si giocherà a dublino allo stadio di dublino alla finale di europa league comunque andrò a reggire a questi sorteggi allora innanzitutto partiamo dal girone a poi arriviamo al giorno della roma che al girone g girone a west ham olimpia costo e friburgo e bacca topola girone b ajax marsiglia brighton e a cappatene girone c rangers real betis sparta praga e aris limasson limassol girone d quello dell'atalanta quindi atalanta sporting lisbona sturm graz e rakov squadra polacca e girone e liverpool non si può vedere il liverpool in europa league comunque liverpool lasc litz union san giuloas e tolosa girone f villa real rennes maccabi aifa panadinaicos girone g roma siviglia scusatemi roma slavia praga sheriff e servette che non la conosco non so perché ho detto siviglia vabbè roma slavia praga sheriff e e servette e poi girone h l'ultimo girone bayern leverkusen carabag molde e a e a ken allora vediamo innanzitutto girone del della mia roma partiamo direttamente da lì la roma che becca un sorteggio abbastanza positivo molto positivo ma stiamo attenti alle trasferte perché comunque lo slavia praga diciamo non bisogna sottovalutarlo perché comunque andate a giocare a praga non sarà facile però comunque anche lo stesso sheriff a in moldavia non saranno stadio facile da affrontare però comunque la roma sulla carta da romanista e da sportivo soprattutto la vedo prima nel girone poi mai evitare sorprese stiamo attenti perché la roma è capace non bisogna sottovalutarle le squadre comunque la roma comunque la vedo prima e seconda forse vi dico sapete che vi dico lo sheriff seconda e poi lo slavia praga terzo vabbè questa è un po la mia sensazione sul girone dell'atalanta girone dell'atalanta è abbastanza pure l'atalanta non gli ha detto proprio facilissimo perché comunque becca lo sporting lisbona ma per me l'atalanta se gioca l'atalanta è più forte lo sporting comunque sporting ha perso tanti giocatori quest'anno quelli forti vedo comunque l'atalanta leggermente avanti secondo sporting a mani basse e poi terzo forse lo sturm graz forse ragov non la conosco come squadra polacca quindi poi nelle altre vi dico il west ham e il friburgo secondo me da prima e seconda nel girone passeranno poi nel girone b è veramente tostissimo ragazzi aiaz marsiglia bryton e a k ten c'è veramente un bellissimo girone però pure qui ragazzi io vi dico passa 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 il bryton a sorpresa e il marsiglia e l'haiaz secondo me va in conference non lo so l'haiaz è una bella squadra però bryton non lo so sarà primo anno in europa league comunque tanti anni che non tornava a giocare una coppa europea tra l'altro squadra di deserti io la vedo comunque fra le che passo al girone sono magari non da prima ma da seconda girone c rangers real betis sparta praga e qui passano secondo me real betis prima e seconda il rangers e poi girone dell'atalanta già l'ho detto girone e liverpool prima in assoluto secondo forse vi dico l'union san giluas che l'anno scorso mi è piaciuta e terza ci metto il tolosa poi girone f villa real secondo me prima e seconda forse rennes ren ren e poi girone h bayern l'everkusen da prima seconda a sorpresa vi dico ragazzi il molde non lo so non lo so amanti delle scommesse potete giocare il molde che passa al girone comunque fatemi sapere che ne pensate io sono contento onestamente sono contento non voglio fare un video troppo lungo perché perché ho da fare altre cose quindi mi cercherò abbastanza di sbrigare voglio sapere la posta qua sotto comunque sono contento del girone che ha preso la roma l'atalanta non gli ha detto male nelle altre squadre comunque il milan che è stato devastato un girone tostissimo l'inter un girone è buono la lazio un girone proprio cuscinetto proprio facilissimo il giorno della lazio napoli pure buono diciamo buono tutto sommato a partire al madrid che già ve lo sto spoilerando comunque voglio sapere la vostra sui gironi d'europa league no di champions fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale lasciate un mi piace se non siete iscritti iscrivetevi da già per tutto e noi che facciamo il prossimo video ci vediamo questa sera in live roma milan dai iscrivetevi ciao sempre forza roma ciao 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 ciao